Giacomo Saccomanno, commissario regionale della Lega, in una nota invita Sacal, attraverso passi concreti, a smuovere la difficile situazione degli scali aeroportuali calabresi. In tale condizione, dice Saccomanno, è indispensabile che la Sacal proceda alla predisposizione di un serio piano aeroportuale, per cercare di comprendere e realizzare un sistema adeguato ed integrato che possa preferibilmente dare sfogo a tutte e tre le strutture. Reggio Calabria, ad esempio, fino ad oggi ha solo avuto tanti proclami, ma nessun piano industriale che potesse farlo decollare. Il numero dei passeggeri è diminuito, sempre più per evidenti carenze nella realizzazione del progetto di renderlo utilizzabile anche dalla frontistante città di Messina. Molti ritardi, molte iniziative e tanti proclami. Infine, i messinesi hanno cominciato ad utilizzare l'aeroporto di Catania, essendo stato anche creato un sistema di trasporti ad hoc. Tutto va bene, continua Saccomanno, ma senza un adeguato processo e una condivisione della Sacale e della regione, tutti gli sforzi probabilmente rimarranno tali. Rangiorando per gradi, appare prima di tutto indispensabile che dopo l'assetto della società venga nominato un CDA all'altezza, un presidente che abbia competenza, lungimiranza e visione generale degli aeroporti, e che quindi possa costruire il fondamentale sistema aeroportuale regionale, ovedare di rilievo, secondo un adeguato studio, sia l'aeroporto di Raggio che quello di Crotone.